Quando si parla di informazione in Italia e della qualità che sarebbe in calo, c'è sempre questa idea che dietro ci sia chissà quale retroscena, quale complotto, gli editori che hanno interessi con la pubblicità, le aziende, non si può scrivere quello che si vuole. In realtà banalmente se trovi che la qualità è scarsa è perché l'informazione viene pagata in maniera scarsa, i giornalisti vengono pagati poco. Non è vero questa roba che si pensa che quello del giornalista è un lavoro strapagato, si vive nell'agio, si fa la bella vita, forse era così sino agli anni 80, 30, 40 anni fa, ma le cose sono molto cambiate adesso, a meno di non essere molto bravo o molto fortunato, è difficile che tu venga pagato tanto. Charlie, la newsletter del post, ha pubblicato un bel resoconto su quanto i giornali italiani pagano i loro collaboratori, quanto viene pagato un pezzo per la carta o per l'online. Ti faccio un esempio legato all'online perché abbiamo visto che la carta ormai in Italia purtroppo la comprono ormai pochissime persone. Generalmente l'online i pezzi vengono pagati molto poco, 10, 20, 30 euro a pezzo. C'è un grosso gruppo editoriale, non ti dico il nome ma sul sito del post trovi tutte le informazioni, che paga 2, 3, 4 euro a pezzo, a seconda della lunghezza, e dopo i 40 pezzi mensili paga 1 euro per pezzo oltre i 40. 1 euro. Tu capisci bene che se le cifre sono queste, una persona che fa il collaboratore per un giornale deve scrivere più pezzi in una giornata per poter avere uno stipendio dicente, per poter vivere. E quindi non ha proprio fisicamente il tempo per poter controllare tutte le fonti precise. E se scrive qualche cosa che non è corretta è perché non ce la fa. Se dovesse controllare tutto non arriverebbe a mangiare a fine mese. Ok? Vivevo con una persona che all'inizio della sua carriera veniva pagata 30 centesimi a pezzo. 30 centesimi. 3 pezzi, 1 caffè. Capito? Che qualità vuoi avere se paghi 30 centesimi a pezzo? Un mio collega diceva, se paghi noccioline verranno a lavorare delle scimmie. Ecco, questo è il problema grosso.